Però voi, che stettini, volete metterne al massimo, perché i russi vanno pure. Grazie. Va bene. Ascolta, comunque, la prossima gara che fai, la facciamo in età, mi prenoto già. No, no, gli spigliani, digli che... No, no, lo faccio in età. Adesso è ok, sciagano tu. Eh? Tutto bene. Lo sciagano tu. Ti afferco. No, lo faccio per due motivi. Uno perché gli spigliani è un amico. Due perché in uno è un amico. Sto accorto. Ma lo so, me l'ha raccontato, non so. Adesso li alla mandano a casa che non so. No, anche qui. Beh, adesso... No, quindi dovremmo che ci riuscite a lavorare. Diciamo... E che qua... Cioè, in una situazione... del genere che mandano una persona che... non ci vai a gestire... No, no, niente. No. Però basta. Però... Anche se lo prendi pure, non posso dire. Mi ricordo un po' di Pagnaroli che giocavamo a San Israele a lavorare lì a passione Rocca per il San Israele. Am declazato per l'esnato da ciò noi il tabagno, che stiava, mi ha detto che era lì. C'era un raffetto, aveva un pezzo, 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 aveva un pezzo che aveva un pezzo, aveva un pezzo, aveva un pezzo, aveva un pezzo, aveva un pezzo. Grazie. 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 Grazie.